Guardi, però c'è una a fare delle foto e poi facciamo i provini, eh? Ragazzi, meno di 500 mila di apposa, niente. Se qualcuno di noi è fatto fuori, in blocco se ne andiamo, va bene? Solidarità, eh? Tu me regolare! Ok ragazzi, vi pigliamo tutti senza fare il provino, 500 mila della testa al giorno. Voi sempre a me mi dovete far trattare, se sono resi subito, hai visto? Dai e canta! Tutti quelli che adesso chiamo passano per la segretaria per la film. Morozzi. Stimigliano. Pecoraro. Lopez. Bellacqua. Gentiloni. Gentiloni. Mercuri. Semprini. Covillo. Porro. Decidra. L'Arta Bianco. L'Arta Bianco. Frangovic Mirko. Scusa, guarda che c'è un errore d'omissione, mi sa che te sei perso il contratto. Guarda che non mi sono perso un bel niente, sei stato scartato. Scusa, che manna a me? Scartato. Guarda, ha messo in un concesso che mi hanno fatto fuori, vuole sapere chi si ha dato sto diritto. Il produttore, quello che caccia i soldi per il film, ha detto come gli stai bene perché c'hai la faccia del buono. Io c'avrei la faccia del buono. Io? Io c'ho la faccia del buono. Faccio pazienza, non lo posso fare niente. E a voi tutti, fate presto, al Teatro Cinque per la prova costume. Oh, ragà, avevo sbagliato il film, forza, tutti fuori, tutti per uno, uno per tutti, andiamo? Oh, ho detto andiamo, tutti per uno, uno per tutti, forza? Allora, scartato, tu va avanti, io mi filmo questo, va. E che ci potevo dire? Allora, Oscar, è qui a mezzo un anno al giorno. E quando lo rivedete? Dai, che aspetta? No, giù. Ma non dovevamo essere tutti solidari, oh?